Vediamo un po' che sarà sul primo a battere. Vediamo. I nuovi capitani, Ansebe e Tamanier. Vediamo un po' che battere. Quindi i cori sulla curva dell'energia, questo paese è importante. La pressione è altissima. Ti faccio in lacrime. Vediamo se i metri con le tre di Trap saranno eroi. Il primo a calciare sarà una francoforte. Ah no, aspettate. Non lo so, no. Trap è sulla linea, quindi fa una francoforte. Tavernier, subito. Tavernier. Può essere l'eroe. Può essere l'eroe di questa favola. Un sogno che si può realizzare o meno. Tavernier, ha una grossa dispensabilità. Tavernier, vai, amico mio. Onto, Trap. Vediamo un po'. Non prenderli in corso. Trap si muove un momento. Vediamo un po'. Tavernier. Tiro, rete. Tavernier. 1-0. 1-0 Regers. Bellissimo rigore. Spiazzato troppe. Ma andiamo. Si è in realtà centrale. In realtà centrale. Ma comunque, rigore non brutto. Partiranno una francoforte. Non troppo veloce. Vediamo un po' chi andrà. Andrà, scusatemi. Ma chi è questo? Ma chi è? Pazienza, forse. Non ho idea. Vediamo un po'. Attenzione, rete. Ha segnato. Inzittisce pure. Lenz. Scusate. Inzittisce. Lenz. Proprio inzittisce. Di foto al rangers. Non è perfetto. Angolato. Alla destra del portiere. Bel rigore. Bel rigore. Miง lake. Mi rapporto. Davis, forse. Se mi ha visto male, Davis. Contro il trapputo. Davis. Ho partektó innorità te. Grandissimo rigore di Davis, grandissimo rigore, applaudono quelli dei rangers, siamo 2 a 1 nei rigori, grandissimo rigore sotto l'incrocio, chapeau, partirà il numero 7, chi è, non ho capito chi è, vediamo un po', Mcregor vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', non ho visto, non ho capito, attenzione, guardate che lo avrete, grandissimo rigore, pure questo del Francofort, Rustic, siamo 2 a 2 nei rigori, partirà, non ho visto chi, da rigore, alla sinistra il portiere, Mcregor, tirò, battato alla sua destra, intanto, chi va, punto, nemmeno un po', chi va, chi è, sono quali, non ho capito, non ho visto i calciatori, scusatemi, trap, un giorno non ho 3 a 3 nel testo dei rangers, vediamo un po', trappo si muove ancora molto, attenzione, porta il tuo role a te, grandissimo rigore, sotto l'incrocio, non ho capito il nome, forse, Arnold, i tecnico rangers ci sperano fuori da posi, che sono venuti fino a Siviglia, per vedere la squadra, il gruppo andrà, complimenti dei rangers, anche a Francofort, che parte con Kamada, si visto poco, vediamo un po', Kamada, tirò, grande rigore, grande rigore, sotto l'incrocio, sotto l'incrocio, alla destra del portiere, non ho parlando meno del lato Mcregor, però, grande rigore, Paolo ha un po' rischiato, però, grande rigore di Kamada, esulta come di Fede Francoforte, ma non per molto, partirà Ramsey, oh cavolo, oh cavolo, spero per lui che lo segni, perché mi piacerebbe comunque vederlo gioire, poverino, mi ha un po', Aaron Ramsey, spero con tutto il quello che lo faccio, neanche lui per andare in corsa, Ramsey, tiro, parato, parato, lo sapevo, parato, incredibile, incredibile, trap, un brutto rigore, lo sapevo, Ramsey ha fatto una brutta fine, ma non è finita, no, però una mozzarella, centrale, brutto, brutto, veramente, mezza altezza, aia, attenzione, partirà, i mozzeri rendersi disperati, partirà, mi sa che questo è, Kostic, neanche un po', contro Mcgregor, che proverà a pararlo, Kostic, tiro, lo stava prendendo Mcgregor, e si sbagliano adesso alla fine, si sbagliano adesso alla fine, e un po', oh mia, lo stavo pure prendendo Mcgregor, proprio a rigore di Kostic, vediamo un po' chi va dai rangers, andrà ruffo, mi sa, ruffo, vediamo, vediamo un po' ruffo, tipo per i rangers, un po', non sono, parte ruffo, tiro, rete, madonna che brivido, per i goni di ruffo, però, chi calcia il francforte, vediamo un po', non so se sia decisivo o cosa, siamo 4 a 4, però, il francforte ha battuto dopo, non lo so, potrebbe essere decisivo, non ho una idea, non ho proprio idea, sinceramente, partirà, mi sa che vorrei, mi sa che vorrei, e si vorrei, vediamo un po', l'argentino, cosa farà, Mcgregor deve comprare un'impresa, vediamo un po', vediamo un po', il ranger si può fare un tifo per voi, parte vorrei, rete, aspetta, vediamo un po', hanno vinto, vittorio e francoforte, vittorio e francoforte sono il mio palingo, ma complimenti al rangers, complimenti al rangers, faccio i miei veloci complimenti, Ramsey che sbaglio rigore, è importantissimo, e niente, vittorio e francoforte, come immaginavo, vedo questo, ciao amica.